Sì, ma quello è tutto il mio giusto, sennò c'è la gara che si vedeva vincere lui. E lui c'è la mia appena, eh? Sai che gli ha fatto fattare? Chi è? Sai che gli ha fatto fattare? Sai che il Chi è? Mi ha chiamato da casa? Chiara, ma non ne sa niente. Sai bene, devi farvi venire a colare la gara. Lui ti fa fattare. Ti fa fattare. Che c'è? C'è uno, è un fattato. C'è uno, è un fattato. Fammi una foto con il nuovo campione italiano qua. Sono infilmato, ciacca. Sei infilmato? Vieni, vieni, vieni. Nuovo campione italiano. Prezza di mano. Tirata. Minchia, non è successo. Non ho usato un tristinto della partita, le carte ce l'avevo. E perché se poi ti va? Un tristinto. Che c'è la delegata? Un mio mito. Un mio mito. No, 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 mi mettevi. Un mio mito. Un mio mito.